usciti dalla Coppa Italia meritatamente, meritatamente perché l'Atalanta ha dominato la partita in lungo e largo e io mi sorprendo se l'Atalanta non va al quarto posto ma è meglio, è cento volte meglio di squadrette come Milan, Lazio e Roma ma di cosa stiamo parlando ragazzi? ma quest'Atalanta li fa 10-0 a queste squadrette che ogni qualvolta che si presenta l'occasione dal quarto posto sembra che lo facciano a posto e vanno a pareggiare a perdere queste squadrette del cavolo non ci fanno nulla in Champions League a perdere perché tanto l'Inter cosa ha fatto quest'anno? ha perso i gironi, cosa farà la Lazio se andrà al quarto posto? perderà, perderà il girono di Champions League il Milan cosa farà se andrà in Champions League? perderà il girono di Champions League cosa farà la Roma se andrà al quarto posto? perderà il girono di Champions League l'Atalanta secondo me invece no, secondo me no secondo me no, è una bellissima squadra una bellissima squadra che merita di essere al quarto posto e merita tantissimo rispetto a quelle squadre che per il momento sono lì immeritatamente, immeritatamente rispetto a questa grandissima squadra che si merita tutto, si merita tutto e complimenti perché veramente l'Atalanta mi piaceva l'anno scorso mi piace ancora di più quest'anno, bellissima squadra ma d'altronde finalmente è arrivata una sconfitta per far capire un po' a qualcuno che non siamo il Dio sceso in terra non siamo chissà quelle squadra bisognava un attimino abbassare le pretese perché qua si stava credendo che la Juventus fosse chissà quelle squadra adesso tutti che parlavano la Juventus vince la Champions League iniziate a calmarvi iniziate a calmarvi che agli ottavi di finale se giochiamo così contro l'Atletico Madrid ce ne faranno di gol ragazzi ne prendiamo 7 come ne ha prese quella squadraccia della Roma come quella squadraccia della Roma se noi pensiamo di andare all'Atletico Madrid come se fosse una passeggiata ci stiamo sbagliando di grosso perché quelli che giocheranno cioè che la finale si giocheranno nel loro stadio è ovvio che vogliono andarci è ovvio che in finale vogliono andarci perché la finale si giocherà nel loro stadio nel loro stadio quindi iniziamo un po' a abbassare la cresta e iniziamo a capire un po' che forse se vogliamo veramente vincere la Champions League dobbiamo sudare, 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 sudare perché la partita di oggi è stata innanzitutto ovviamente la partita più brutta che abbia mai fatto la Juventus però rispetto alle altre partite non sono arrabbiato ma sono se volete anche contento perché ripeto c'erano certi galletti che parlavano 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 che la Juventus aveva già vinto la Champions League sì 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 come no ce n'è ragazzi da lavorare ce n'è Ronaldo veramente io adesso mi permetto anche di criticare Ronaldo ragazzi permetto di criticare Ronaldo cioè non mi permetto cioè che non ci vuole nulla però diciamo che è veramente io Ronaldo non l'ho mai criticato se non la scorsa partita ma anche in questa partita la critico inesistente inesistente poi ogni punizione ma non la fate battere a Ronaldo basta basta è mezzo anno che le tira che le tira nella barriera basta e basta ma basta ma basta se non sbaglio non l'abbiamo ancora segnato su calcio di punizione finora in questa stagione ma basta ma basta farle tirare a Ronaldo basta e basta e dopo un po' mi stufo ma pure ma pure questa partita sulla barriera basta basta per favore basta poi vabbè vede il tiro che ha fatto che dira il tiro che ha fatto che dira manco Sturaro manco Sturaro è così scordinato cioè ma aveva beh non aveva il tempo per coordinarsi ma cavolo gliela ha tirata in bocca al portiere il portiere era fermo era 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 fermo manco un un pensionato manco un pensionato e gliela ha tirato con tutta la porta spalancata gliela ha tira centrale mamma mamma mia sto giocatore veramente mamma mia mamma mia ma dove vogliamo andare con che dira dove vogliamo andare dove vogliamo andare dove vogliamo andare e poi adesso poi adesso giocatori come Benazia servivano e adesso la prima critica che faccio da Allegri la prima critica che faccio da Allegri adesso eh cos'è rimpiangiamo Benazia vero rimpiangiamo Benazia rimpiangiamo abbiamo dovuto giocare con De Sciglio difensore centrale difensore centrale capisco terzino destro De Sciglio ma dove quando è che De Sciglio ha fatto il difensore centrale mo adesso ci inventiamo tutti no siccome abbiamo inventato Sturaro Terzino che ha fatto cagare anche lì Sturaro Terzino no adesso Quadrato Terzino no adesso inventiamo la rivoluzione De Sciglio difensore centrale no ma se se volete mettiamo Di Bala in porta no dai già che ci siamo no perché forse Allegri è confuso calcio con calcetto io veramente forse è la prima critica che faccio ad Allegri mai mi sono azzardato criticare uno dei migliori allenatori al mondo per me ma veramente ha fatto questo è stata credo la cavolata più grande il fatto di non mettere Benazia Cosa ti ha fatto Rugani cosa ti ha fatto Rugani per metterlo era meglio Benazia di Rugani era meglio Benazia e non l'abbiamo messo e adesso ci tocca mettere De Sciglio difensore centrale perché Caceres è in panchina Caceres che se lo metti anche solo un minuto ha già un acciacco fisico quindi veramente immaginiamo i livelli veramente della nostra squadra siamo messi in mano in difesa Bonucci infortunato Caceres che veramente è fragile come non so che cosa Rugani Rugani è ancora da scoprire Chiellini adesso bisogna valutare anche Chiellini perché si è infortunato anche Chiellini benissimo titolare non lo so è inadatta con l'Atletico Madrid vogliamo giocare difensore centrale Rugani e Caceres ma ma non vedo l'ora ma non vedo l'ora il carisma di Rugani sicuramente la bravura di Caceres ma sì ma sì dai ma sì ma noi siamo la Juve ma noi vinciamo la Champions sì 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 ho visto ho visto perché le sette finali perse no no ce le ha il Napoli ce le ha le sette finali perse iniziamo ad abbassare un po' la cresta iniziamo ad abbassare un po' la cresta sono contento per questa sconfitta perché finalmente abbiamo capito che per ottenere risultati bisogna sudare bisogna sudare quindi iscrivetevi al canale lasciate like seguitemi sui miei social Twitch Instagram e Facebook trovate tutto in descrizione detto questo ciao ragazzi